ciao a tutti bentornati qua di nuovo sul mio canale oggi allora ricominciamo a fare un po di video perché non ho fatto più video non ho fatto più video perché col lavoro sono stato straimpegnato tornavo a casa la sera tardi non riuscivo fisicamente a mettermi al computer c'ero distrutto una roba assurda quindi non ho più potuto non riesco neanche a parlare non ho più potuto fare video e poi sono andato la settimana scorsa sono andato in vacanza sono tornato oggi e quindi sono distrutto anche oggi quindi questo farò un video molto semplice proprio video semplice niente di complesso niente di assurdo per dirvi qua ho un metro con cui misuro la scrivania che adesso stavo valutando non lo so forse prima o poi la cambierò vediamo cosa succederà allora un po di qua intanto ho visto vi lascerò il link con la descrizione questo è uscita le nuove schede video rtx che hanno un effetto grafica fantastico migliorato di molto l'effetto grafico delle nuove rtx invidia che sono le schede video invidia rtx 1060 in su mi pare che non mi ricordo se hanno fatto anche più bassa però dalla 1060 in su sicuramente ci sono perché le ho viste si ho trovato su amazon vi lascio il link della corrispondente mia che alla 1060 non mi ricordo più qual era la la mia corrispondente comunque vi lascio il link della rtx corrispondente alla mia gtx dovrebbe essere da 6 giga se non ricordo male poi altre cose spero comunque che a voi le vacanze ci andate benissimo chi lavora chi studia comunque le vacanze che riprenderà spero che abbia passato delle vacanze favolose fantastiche si sia divertito un sacco spero per voi che non abbiate preso il brutto tempo a me è andata bene non ho preso brutto tempo tranne adesso che fuori stagini appena inizia a piovere la cosa assurda sono arrivato a casa inizia a piovere di colpo va bene altre cose sto guardando quando novità non ne ho ho fatto un po di sì vi faccio vedere ho fatto un po di wrapping sul pc un po di modding cioè leggero una roba leggera non ho fatto un video perché era un casino sinceramente no in realtà noi mi sono dimenticato sono messo lì ho tagliato sagomato e basta mi sono dimenticato di fare video sinceramente vi faccio vedere ok come vedete gli ho fatto lì e anche qua sopra gli ho fatto tutta la copertura con la pellicola finto carbonio che secondo me l'effetto viene è una roba veramente bella da vedere una roba assurda in alcuni punti purtroppo mi si è tagliata male la pellicola ho cercato di risistemarla al meglio che potevo comunque l'effetto che viene è veramente fantastico secondo me rispetto a vederlo in tinta unita ok altra cosa che uscirà a breve uscirà sul canale ci sarà un nuovo format che non vi spoilerò niente spero vi piaccia ma mi è venuta questa idea e vedremo di portarla a termine allora tra un po usciranno video nuovi c'è un nuovo format che non vi spoilerò qual è ma secondo me è una figata io sì di certo mi diverterò un casino a fare questi video qua perché mi diverterò so che mi diverterò tutti si divertirebbero sto cercando di dirvelo però spoilerandomi una roba possibile perché non voglio dirvelo cioè non voglio farvi capire che video saranno vi dico solo che mi hanno portato degli oggetti misure o degli oggetti particolari quindi li vedremo nei prossimi video niente altre domande se avete domande lasciate nei commenti richieste fatele pure vediamo se sono compatibili le faccio sennò vi scrivo che è il motivo per cui non posso farla e basta altre cose che mi vengono in mente no per adesso prossimo video se mi vengono in mente altre robe ve le dirò per questo video è tutto io vi ricordo di commentare iscrivervi lasciare dei like e spolliciare tantissimi e attivare le notifiche la campanellina cliccare sopra e attivare le notifiche così avete la certezza che vi arrivi la notifica quando pubblico un video perché a volte non si sa perché youtube non funziona bene e non vi arriva la notifica ok quindi niente vi aspetto al prossimo video io no qui non c'è l'ora io vi metワ лучшеATHER io 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 Grazie a tutti.